E' arrivata l'ultima corsa del convegno. Siamo in prossimità del Natale per cui accogliamo l'occasione per augurare un buon Natale a tutti. Noi ci risentiremo, ci rivedremo mercoledì 29 dicembre. E questo è quanto. Va la settima ed ultima corsa in programma, va senza utile OP che non prende il trotto ed è lontano. La chiusura delle ali, ZZ Blues nei confronti di Angelica Redford TRGF e Zoe Ors che sbaglia e finisce squalificato. 200 iniziali in 14 e 7. Sbagliato anche Reynold Allé, anche esso a tabellone. E si va al completamento del quarto iniziale che ZZ Blues percorre in 29 ed 8. Subito l'avanzata di Agassi Griff che cerca di agganciare il treno dei primi seguito nell'azione da Valbondione Lewis. 44 e 8 i 600. rinfiata ZZ Blues, Angelica in seconda posizione, allargo Agassi seppur un po' in difficoltà di meccanica. Un minuto gli 800. La terza pariglia è quella di Astro De Gleris, la quarta di Ayrton Trebb. La mossa di Ayrton Trebb allargo parato da Astro De Gleris, ma sono ancora dietro, davanti ZZ Blues percorre il chilometro in 1,15 e 3. Ultima frazione in 14 e mezzo della leader, 1,29 e mezzo, i tre quarti di miglio sempre seguita come da partenza da Angelica. Fanno fatica tutti quelli a largo, tra i quali cerca di farsi notare Astro De Gleris. All'ingresso in retta, ZZ Blues in vantaggio, ZZ Blues avvicinata ma con vantaggio che basta a portare a casa un altro successo. Nelle mani di Giorgio D'Alessandro Junior, sempre per i colori del signor Giuseppe Granato. In gran forma, colori in grandissima forma nel periodo. grazie a ZZ Blues, Zanna dei venti, Riccardi Neluis. Sul mio cronometro, 1,59 secchi, non escludo che la media sia intorno all'1,13 e mezzo per la vincitrice. Sarebbe per lei sicuramente il record in carriera, anche per la gioia degli allevatori. La figlia di Varen e Night and Day, Loretta e Guido, Guido e Loretta, saranno sicuramente contenti del successo, ennesimo successo, di ZZ Blues. Fa uno sproposito Angelica e chi se lo aspettava e corre alla grande, Astro De Gleris. Si conclude così il convegno di corse a Versano. Rinnoviamo gli auguri di buon Natale a tutti e appuntamento a mercoledì 29 dicembre.